Lupo, dove sei? Sono al vostro fianco. Ecco le lacrime di drago. Dobbiamo andarcene da qui, mio sere. Lepo, dove sei? Lepo, dove sei? Ascoltate, è giunto il momento. Ora io devo andare. Il viaggio per recidere i vincoli con il Fato. Sarà molto lungo, senza dubbio. Eppure tu vuoi unirti a noi comunque. Lo voglio. Ti sono davvero grata, shinobi del drago. E sappi che Kuro sta gioendo con me. Partiamo verso l'Occidente. Al luogo dal quale proviene il drago divino. L'Occidente. Ries. L'Occidente. La scuola. Grazie a tutti.